Grazie agli amici di Forza Italia per aver organizzato questo incontro con ospiti importanti, illustri, quindi un grande convegno in questa città, che è una grande città e un grande territorio che è patrimonio UNESCO. Fare l'assessore qui all'agricoltura è una fortuna, è un territorio che si è modificato negli ultimi 35 anni, così, andando un po' indietro, sono sparite le piccole realtà zootecniche che c'erano e diciamo si è sviluppata sempre di più la viticoltura, quella cultura del prosecco. Questo ha portato nelle aziende, negli agricoltori, una buona relatività che l'agricoltore, sentinello del territorio, ha reinvestito abilmente in questo territorio, coccolandolo, facendolo diventare quello che è. Quindi colline ben tenute, lavorate, ha investito molto in innovazione, in tecnologia, concetti come la biodiversità, la sostenibilità, che sono tanto di moda adesso, l'agricoltore ha sviluppato ancora 15 anni fa. un esempio, il risparmio dell'acqua nell'irrigazione con i sistemi di irrigazione a voce. I cittadini del territorio hanno risposto a questa, diciamo, alla vetta viticoltura, da qui è partito il primo piano di polizia rurale, che diciamo andava un attimo a contenere l'utilizzo anche dei fitofarmaci poi in agricoltura. Da qui è partito il primo piano di pulizia rurale, tanto apprezzato e poi copiato a livello nazionale. Quindi un'agricoltura che funziona, che però deve fare i conti con il cambiamento climatico, altro tema del convegno di oggi, il dato sviluppare. E così per dire, qui siamo vicini al seminario Vescovile e c'era un parroco, Tom Antonio Denardi, che ha tenuto per tanti anni i dati climatici di Vittorio Veneto, ha scritto anche un libro. E se noi leggiamo quei dati e li paragoniamo adesso, vediamo proprio che il clima è cambiato. Il clima è cambiato in un modo importante, con inverni sempre più caldi e estate con ondate di calore pazzesche. L'altro giorno pensavo che a Vittorio Veneto non nevita in pianura, che è la neve che rimane in pianura dal 2010. Ecco, quindi risparmiamo del piano neve, ma questo è un risultato del cambiamento climatico. Poi arrivano i temporali, fortissimi, e creano danni. Per darvi degli esempi, creano danni temporali e il far caldo, il caldo dell'invernale fa partire prima le piante, i vigneti e le viti. Facciamo agliare prima i viti. Se ci ricordiamo, il 2017, il 19 e il 21 aprile, le grandi gelate che hanno dimezzato la produzione di prosecco in questo areale. Poi le gelate che sono ripetute nel 2019 e nel 2021, proprio perché la pianta era avanti. ma ci ricordiamo le grandinate che ha distrutto la città nel 20 giugno del 2017, la tempesta vaglia a frutto del cambiamento climatico. Nel 2019 una grandinata pazzesca è il 26 di aprile, che nella zona del prosecco ha dimezzato le produzioni ed era il 26 di aprile, per poi arrivare alla siccità tremenda del 2022. E sapete, un altro esempio è il luglio di quest'anno, con le grandinate del 24, 25 e il 26 di luglio, e anche qua ha colpulato tantissimi anni. Quindi un agricoltore, un'agricoltura che adesso deve fare i conti con questo cambiamento climatico. E qui, alzo le mani, staranno anche i nostri rappresentanti e le istituzioni a trovare le soluzioni più adatte. Grazie, grazie Gianluca Prozotto, io credo che un applauso anche per l'ospitalità che ci dà qui nella città di Vittorio Vecchio.